Buongiorno a tutti, questo è il tutorial 2 dove insegneremo a fare una gassa d'amante In realtà è il terzo, però va bene No, l'altro era l'1b Allora, ecco qui, questa qui adesso l'abbiamo presa così, una cima Allora, prima si fa un'aggola, così Con la cima libera Si entra da dietro, in questo modo E si fa passare, non qui come fa un sacco di gente Ma dietro questa cima morta E si ripassa dentro a tutti e due Qui, tirando Viene fuori una gassa d'amante Per sapere che è una gassa d'amante Bisogna fare una semplice prova Basta tenerla così e tirare E vedere che il nodo non si sliega Ma soprattutto per sliegarlo basta Prendere quest'asola qui, tirarla così In questo modo E lei Viene via Mentre se fate altri nodi Probabilmente quando Con questo termine molto Marinaresco Si asciugano Il nodo non viene più via E quindi Non mi tocca tagliare Ciao a tutti E ci vediamo dopo Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti